Ciao a tutti, iniziamo subito con il tutorial, allora, diamo su il nostro thumb, ok, e prendiamo il link che vi ho lasciato proprio in descrizione e lo incollate. Allora, vi troverete davanti questa pagina, voi andate a cliccare download, si scaricherà un file, si scaricherà appunto questo file qua, che è appunto il gioco standard, aprirete appunto questo file che troverete sul download, lo cliccate appunto e troverete il gioco. Allora, avviate semplicemente il gioco, mettete le gambe del vostro schermo, la qualità quale vorrebbe, e vi aprirete assolutamente il gioco, cioè non ci sarà niente di installare. Ecco, come vedete funziona, ovviamente a me è l'alca, che bello, e basta, ciao!